salve amici e amiche questa è stata la salva di missili partiti ieri dall'ira da tabriz da qui e che diretti contro tel aviv in israele quindi c'è stato questo attacco ne avrete sicuramente sentito parlare perché tutti degli giornali ne hanno parlato quello che si vede appunto è la partenza di questa salva e fra l'altro inquadrata anche da un aereo di linea si vede e poi ci sono diversi video che stanno circolando fra l'altro anche passati nei telegiornali che mostrano appunto l'arrivo di questi razzi a tel aviv non vi posso mostrare le immagini anche se non c'è niente di strano in realtà ma molti di questi razzi poi colpiscono il terreno si vede proprio questa pioggia di razzi colpire il terreno ora immaginate di essere un giornalista italiano ok non vi dico per quale giornale perché tanto ci arriveremo presto che prende queste immagini poi vede i missili che colpiscono il suolo in israele cosa va a scrivere ci vuole solo la musichetta tan 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 la rappresaglia dell'iran buca lo scudo di israele ok bene questa è un po l'ennesima dimostrazione che chi scrive queste cose probabilmente non ha la vaga idea di come funziona lo scudo missilistico israeliano scudo missilistico che più o meno possiamo illustrare per deduzione in questo modo c'è uno schieramento imponente delle forze nato e statunitensi questo è solo lo schieramento navale per quello che possiamo vedere che ci dà un'idea del fatto che tutta l'area è pesantemente monitorata solo questo è quello che vediamo solo per quanto riguarda le navi poi chiaramente ci sono aerei per la ricognizione a wax osservazioni e soprattutto poi c'è un grosso sistema satellitare impianto satellitare che rileva immediatamente la partenza di questi missili quindi un evento del genere diciamo che un singolo missile viene rilevato figuriamoci quando parte un'intera salva voglio dire si vede dallo spazio una cosa del genere quindi cosa succede di interessante come funziona uno scudo missilistico fondamentalmente o scusate questa è la sorpresa che volevo mostrarvi quindi cosa succede che nel momento in cui viene rilevato il lancio si attiva il sistema di difesa che traccia ogni singolo oggetto e prevede le sue possibili traiettorie a quel punto viene selezionato il sistema più appropriato per intercettarlo e viene intercettato quindi questo è quello che succede ora ci sono pro e contro nell'uso di missili balistici intercontinentali e questo evidentemente in iran lo sanno poco nel senso i pro sono che uno missile balistico per coprire questi 1200 chilometri che separano l'iran dalla da tel aviv ci mette circa 10 minuti di volo perché deve giusto entrare in alta orbita terrestre in alta atmosfera o spazio come vogliamo che dipende dall'altitudine e poi scendere perché si chiama missile balistico perché fa una traiettoria balistica appunto quindi sale e scende per una traiettoria prevedibile lo svantaggio quindi il vantaggio è che sono oggetti molto veloci che per coprire grandi distanze ci mettono poco tempo però fino a un certo punto perché comunque stiamo parlando di 10 minuti che quindi un sistema di difesa può tranquillamente tracciare prevedere e considerare tutte le eventualità il contro è che appunto è una traiettoria prevedibile di conseguenza cosa succede che in questo tempo viene elaborata la migliore risposta possibile ora perché il fatto quotidiano se ne uscito con questa sciocchezza perché ha visto evidentemente il video in cui questi missili arrivano al suolo ma cosa è successo beh molto semplicemente il sistema di difesa israeliano lo scudo missilistico ha elaborato tutte quelle minacce che potevano essere pericolose perché potevano colpire strutture edifici civili e le ha neutralizzate tutte invece quelle altre che non rappresentavano un rischio per la popolazione o per strutture semplicemente sono stati ignorati e lasciati liberamente di cadere al suolo ok questo è quello che è successo quindi non è vero che è stato bucato lo scudo di israele perché in tutti questi mesi da oltre un anno lo scudo di israele sta facendo un lavoro straordinario per abbattere qualsiasi oggetto che gli viene lanciato contro e sono stati lanciati migliaia di razzi contro israele quindi no mi dispiace ma questa notizia è assolutamente sbagliata questo soggetto fra l'altro che io ripeto io non seguo la televisione italiana non seguo i media non seguo i canali youtube italia strane qualche eccezione ma mi chiedo perché questo personaggio viene intervistato in televisione io non capisco sinceramente cioè è possibile che in televisione non abbiano persone più esperte che parlano con cognizione di causa di questo perché a leggere questa dichiarazione in cui dice la difesa israeliana non è in grado di abbattere tutti i missili iraniani l'iran non ha lanciato i suoi missili più devastanti non esisterebbe nessuna guerra con israele l'iran annienterebbe subito israele un paese piccolissimo e senza risorse non lo fanno perché temono gli usa ok vabbè non faccio fatica a commentare però ecco l'iran è sì un paese con una estensione territoriale molto grande ma è un paese del terzo mondo voglio dire questa per esempio è la loro aviazione che in queste ore sta cercando di fare qualcosa ma notate qualcosa no non è il film top gun quello del 1900 degli anni 90 perché infatti questi sono f14 cioè l'iran vola ancora con gli f14 che compro dagli stati uniti quando erano alleati cioè quando l'iran era nemico della russia e quindi oggi la repubblica islamica continua a volare i caccia americani fornite di dal dal governo precedente quindi l'f14 per carità è un aereo bellissimo ma cronologicamente è più vicino agli aerei della seconda guerra mondiale che ha un f35 quindi che cosa possano possono mai fare i piloti iraniani in un contesto di guerra moderna specialmente perché insomma israele ha aerei stealth ha un parco enorme di f15 di f16 insomma dai no è proprio ridicolo affermare che l'iran sia più forte di israele stiamo parlando di una superpotenza perché super è una potenza scusate occidentale come israele con armi ipertecnologiche sistemi avanzati di difesa insomma se parliamo almeno di guerra aerea e tecnologie non c'è proprio paragone non si può fare un'affermazione del genere dai è abbastanza ridicola certo è chiaro che se questo conflitto si trasformerà in qualcosa sul terreno di una movimentazione di mezzi a terra il discorso potrà essere diverso perché data la vastità del territorio iraniano è chiaro che per israele sarebbe uno sforzo enorme quello di lo dico ma liberare l'iran da questa da questo governo assurdo è chiaro che sarebbe un'impresa colossale per loro però finché parliamo di guerra aerea di azioni aeree e soprattutto quelle azioni aeree che permettono a israele di tagliare le teste degli ufficiali e dei dei leader di questa follia è chiaro che israele è implacabile non c'è niente che l'iran potrà mai fare per impedire a un f35 di depositare delle pillole di democrazia quindi no mi dispiace ma no anche no quindi andiamo avanti parliamo invece di ucraina ripeto non mi occuperò del conflitto in medio oriente perché non lo farò finché non diventa un vero conflitto al momento è una situazione completamente asimmetrica dove c'è israele che può fare letteralmente tutto quello che vuole in medio oriente non ha non può fermarlo nessuno da un punto di vista tecnologico ora parliamo invece di ucraina ieri ho visto con piacere differita in realtà la live di mirko parabellum in cui ha fatto un'ottima analisi della situazione come sappiamo vule dar è stata catturata dai russi l'altro ieri tra l'altro ieri e ieri quindi la situazione è questa al momento sappiamo insomma che la loro intenzione sicuramente sarà quella di raggiungere voglio la vecca credo di averlo detto bene penso anzi sicuramente di no quindi spingersi verso nord da qui e eventualmente di consolidare tutto questo settore che ha questo si ha una leggera importanza strategica soprattutto se parliamo della città di kurakove che è molto più importante rispetto a pokrovsk ma soprattutto per una questione logistica dato data la presenza di una rete stradale che collega tutta tutto il settore qui e in poche parole poi fra l'altro chiudendo questo settore se mai dovessero riuscirci allontanerebbero le possibilità scongiurerebbero la gli attacchi ucraini diretti alla loro rete logistica ferroviaria visto che comunque bisogna ricordarlo il grosso delle forze dei rifornimenti russi si spostano su strada ferrata quindi questo è spostandoci non ci sono grossi cambiamenti nella situazione nella direttiva verso pokrovsk se non il solito la solita opera di demolizione dei mezzi uomini da parte ucraina con questo assalto frontale che non porta niente di buono qui sarà difficile chiudere questo settore perché l'area è pesantemente fortificata e minata da parte ucraina però questa è la situazione spostiamoci un po più a nord non ci sono grandi cambiamenti nell'area di piscane e l'avanzata russa qui è stata abbastanza e ferma da giorni questo perché hanno subito pesantissime perdite da parte ucraina come vedete non ci sono grossi cambiamenti qui da giorni nell'area di voi ciasc invece ci sono stati dei tentativi russi da parte da parte russa scusate di di portare un assalto con una ventina di mezzi d'assalto 17 di questi sono stati annientati completamente demoliti passo alla mappa di maya kosk che mostra meglio la situazione scorriamo di nuovo brevemente a vule dar come vedete i russi hanno portato una circa cinque bandiere in tutta la città bastava una in realtà va bene come vedete tutti questi mezzi sono geolocalizzati report di mezzi d'assalto russi demoliti dagli ucraini in questi ultimi cinque giorni questa invece la situazione torres che mostra l'intensa attività dronica ucraina negli ultimi cinque giorni c'è stato un leggero avanzamento russo in centro in questi edifici tornando invece al discorso di voi ciasc vi mostro le icone ecco ancora qui vedete ci sono ancora le icone vecchie del 27 settembre con la demolizione dei mezzi russi la situazione a voi ciasc e vedete è stata aggiornata il 30 c'è stato questo assalto tutti questi mezzi carri armati mezzi d'assalto sono stati distrutti sono tutti video queste icone riportano dei video che mostrano gli attacchi dronici ucraini che hanno demolito questo assalto russo allora una cosa che possiamo vedere fra l'altro prima di passare alla regione di kursk ma che è collegata a essa e che vediamo come proprio dall'area di voi ciasc sono state spostate da parte russa tre brigat tre brigate la venticinquesima la centoventottesima separate cars motor life brigat brigat e l'ottantatresima queste queste questi reparti sono stati spostati presumibilmente nella regione di kursk la conferma ce l'ho perché da almeno da deep state riporta che almeno la ottantatresima è stata spostata nella regione quindi per parlare di quello che sta succedendo a kursk non ci sono grossi cambiamenti se non appunto uno aggiornamento in cui parla di pressione da est verso ovest da parte russa nella regione di nella zona di chiri e continua la loro spinta verso sud est quindi presumibilmente vogliamo credere stanno tentando di chiudere da due lati gli ucraini da parte ucraina invece c'è un nuovo piccolo fronte aperto qui pressioni a nord est e nord ovest e un altro piccolo fronte aperto qui ora ho sentito appunto collegandomi a quello che ha detto mirko ieri mi trovo parzialmente d'accordo sull'utilità dell'invasione della regione di kursk da parte ucraina cioè nel senso da una parte sono d'accordo che queste risorse hanno tolto capacità di difesa a sud est è chiaro che gli ucraini non hanno risorse infinite anzi quindi togliere risorse da sud est per portarle in una azione di invasione è stato un po un azzardo però l'altro aspetto positivo è che comunque prima di questa azione di invasione gli ucraini non avevano niente in mano avevano solo da perdere è un po come faccio un esempio molto spiccio in prima dell'invasione di kursk i russi avevano in mano quattro assi tutte le regioni occupate oggi gli ucraini ne hanno uno cioè comunque sarà un una possibilità in più se parliamo di eventuali trattative per la pace o scambio per cui un domani potrebbe essere messo sul tavolo la cessione della regione di kursk in favore di terreno a sud est insomma qualcosa del genere in poche parole come se no adesso i russi hanno tre carte in mano piuttosto che quattro e gli ucraini ne hanno una una cosa del genere quindi è chiaro che non potranno sostenere a lungo questa situazione è difficile dire come si evolverà però da un punto di vista politico l'invasione della regione di kursk ha avuto un peso enorme quindi per concludere breve discorso sugli f16 ucraini non ci sono grandi novità se non questa foto che è interessante commentare soprattutto per l'equipaggiamento è un f16 ucraino in fase di decollo che vediamo equipaggiato con 4 a 9 e due tani che sono i 4 a 9 sono missili termici a corto raggio nella versione base la versione m o l che sono dei missili degli anni 90 fine anni 90 poche praticamente la scelta di questa configurazione interessante perché sta a indicare che questo aereo sta decollando semplicemente per fare aria aria è un tipo di aria aria in particolare salvo diverse situazioni in cui potrebbe farlo per addestramento però ecco questa configurazione lascia intendere almeno per come la vedo io che stia decollando per fare un lavoro di pattugliamento dello spazio aereo in difesa contro droni o missili perché perché sprecare un am 120 per un drone da poche centinaia di di dollari insomma la 9 è perfettamente in grado di abbattere un drone a quel punto usano questi e questo è quanto per oggi cari amici se non lo avete ancora fatto qui sotto trovate i bottoni per iscrivervi al canale lasciare un mi piace sostenermi in questa iniziativa e come sempre un abbraccio alla prossima